venite a trovarci nel nostro showroom ti regna auto la piattaforma dell'auto ciò che occorre alla cavese in questo finale di campionato dd sarà la continuità sia di prestazioni sia di risultati domenica si giocherà a nardò e la squadra aquilotta ha fatto molto bene con il francavilla dimostrando di aver ritrovato autostima e ripristinato l'impronta offensiva anche tenendo la palla manovrata a terra e tutto ciò a dispetto anche di alcune varianti all'undici iniziale che erano state decise da mister leonardo bitetto perché ad esempio massimo che aveva giocato titolare quasi in tutte le gare precedenti è stato sostituito bene da giuseppe fella nel ruolo di centrocampista ogiano è stato molto ispirato nel cosiddetto ruolo di trequartista passo nettamente diverso rispetto agli avversari e inoltre l'ingresso di de angelis come punta esterna avendo il supporto di marino come terzino fluidificante ha funzionato a sufficienza per mettere in crisi gli avversari sulle fasce blanchard il portiere è stato bravo quando è stato chiamato in causa ma certamente lascerà il posto di titolare al rientrante luca bisogno che è nuovamente a disposizione della cavese dopo l'eliminazione della rappresentativa di serie d dal torneo di viareggio il mister sa di poter contare su una squadra in cui tutti sono importanti anche in casa nardò ci sarà un rientro dal torneo di viareggio quello del centrocampista palmisano mentre non ci sarà il centrocampista più offensivo tiziano prinari che è stato squalificato per cumulo di ammunizioni e non potrà giocare domenica qualora i metelliani non dovessero giungere al primo posto visto che il potenza capolista a sette turni dalla fine conserva gli otto punti di vantaggio potrebbe comunque profilarsi per loro un altrettanto ottima possibilità quella di essere la migliore squadra tra tutte le seconde nei nove gironi un aspetto che nell'eventualità consentirebbe ai bianco blu qualora sussistessero tutte le condizioni per il ripescaggio nei professionisti anche di tentare questa strada chi vince i playoff viene inserito in una prima graduatoria da ordinare sulla base del quoziente punti conquistati in campionato non è naturalmente finita ma con 60 punti in 27 gare la formazione di bitetto ha al momento una media di 2,22 punti a partita giusto pochi centesimi in meno rispetto all'alba longa che ha 59 punti in 26 gare giocate e un quoziente di 2,26 in pratica la formazione laziale è ad oggi la migliore tra tutte le seconde e la cavese viene subito dopo ma è tutto in gioco anche sotto questo aspetto in teoria la quota massima raggiungibile per i bianco blu sarebbe pari a 81 punti ma se la stessa alba longa dovesse frenare in qualche partita anche 75 punti sarebbero preziosissimi per la cavese